Quando la musica vuole costruire un ponte per abbattere le barriere dell'indifferenza e del razzismo, così nasce il festival Oltre le Mura a Grotta Minarda, nei giardini del Castello d'Aquino. Il progetto nasce dalla voglia di andare con la musica oltre i confini della diversità, visto che è un periodo in cui la diversità fa paura, noi cerchiamo di convogliare generi diversi proprio per dare la possibilità a tutti di capire che la diversità può essere un arricchimento. Ogni venerdì, a partire dal 23 giugno, per cinque venerdì di seguito fino al 21 luglio, si susseguiranno gruppi, dal funky all'afrobeat, passando per il jazz, il reggae e il new jazz. Quindi partiremo da questo venerdì con il bando beat, che sono un gruppo di Bologna e che fanno un genere afrobeat, quindi un po' particolare, sono otto elementi, quindi faremo questo. Poi ci sarà Filo Q il venerdì 30, che è jazz, un jazz però fusion, elettrico, quindi un po' diverso dal classico jazz. Poi abbiamo Napoli Rockers Syndicate, che fanno un rots, reggae, quindi molto... Anche questo, anche nei geni dei gruppi, anche il gruppo stesso è in contaminazione. Poi abbiamo Luca Roseto e Carmina Ioanna che presenteranno il loro album, e qui parliamo di jazz, quindi ci fanno l'onore di presentare l'album Irpinia. E il 21 chiudiamo con l'Iottone Pesante, che è un heavy brass metal. Quindi tocchiamo un po' di generi diversi, proprio a far capire che c'è una diversità. La diversità è anche bellezza.